Grazie a tutti Abbiamo fatto alcune riflessioni di ordine teorico, poi abbiamo affiancato alcuni esercizi di tipo pratico. Siccome è un argomento interessante, ma molti non potevano partecipare essendo una giornata intera per varie ragioni, abbiamo pensato, proviamo a proporre una serata, compressa naturalmente, sul tema degli archetipi, poi già che sono qua domani faremo altro, ma ve lo dico dopo. E visto che chiunque abbia un interesse di ordine spirituale, a qualunque livello, si imbatte in discipline e varie branche del sapere che maneggiano tutte quante il linguaggio simbolico. Cioè la vera costante per chi ha studiato l'ermetismo, l'ognosticismo, la cabala, piuttosto che l'alchimia, chi ha interessi verso l'oriente, i cammini iniziatici, massoneria, eccetera, eccetera, è il linguaggio simbolico. Questa è la costante. Quindi, facendo un passo indietro, perché quando si è dentro una di queste discipline si rischia di vedere amplificate le differenze tra questi vari movimenti culturali. E si rischia anche un po' di settarismo spirituale, capite bene che cosa intendo. Facendo invece un passo indietro, posizionandosi nel centro di origine di questi raggi della ruota, scopriamo che nel simbolo, nel linguaggio simbolico, noi possiamo trovare il fattore unificante. Cioè quello che ci consentirebbe di saltare agevolmente dal raggio ermetico a quello cabalistico, a quello alchemico, e così via. Vi è chiaro questo? Alla base del linguaggio simbolico vi è una grande radice. Immaginate il simbolismo come se fosse un albero e i simboli delle ramificazioni. Se andiamo alle radici di questo albero, ci imbattiamo nel tema archetipale. Gli archetipi sono le matrici dei simboli. La parola stessa archè, che in greco rappresenta il principio primo, lascia già intendere quanto uno studio degli archetipi possa essere utile per poi riuscire ad avere una maggiore elasticità e malleabilità quando ci troviamo a studiare o praticare diverse discipline. Io effettivamente vengo da percorsi e studi di orientalistica inizialmente, quindi ho maneggiato un linguaggio simbolico specifico. Avevo una passione per la mitologia comparata, e ovviamente ogni mitologia vive di immagini simboliche, e le rende vive. E poi man mano nel mio cammino mi sono reso conto che più acquisivo dimestichezza con i simboli, e più mi ritrovavo a fare i conti con un aspetto universale del simbolo. Vi faccio un esempio per capirci meglio. Se prendo l'elemento serpente, e lo leggo nella cultura orientale, scopro che il serpente nella cultura orientale è un veicolo della divinità. Shiva, per esempio, non è raro che sia rappresentato con uno o più serpenti intorno al collo, perché i serpenti sono il veicolo del dio Shiva. Esistono templi in cui vi è una adorazione del serpente in quanto veicolo della divinità. Non sono a fattorare, vi sarà magari capitato di vederle, le immagini di qualche sadhu, oppure del Buddha stesso, nel culmine della sua meditazione, con un cobra dietro la schiena che apre il suo cappuccio sopra la testa del meditante, come fosse un'aureola. Quindi abbiamo una valenza, diciamo, positiva, una lettura positiva del serpente. Se lo vediamo invece in un contesto culturale più vicino a noi, l'Antico Testamento, per esempio, abbiamo una lettura del serpente al negativo, legata all'immagine del tentatore, parzialmente negativo, poi in realtà è ambiguo. Però poi nella cultura popolare passa il messaggio che il serpente sia satana, shaitan, il tentatore, il nemico, l'avversario, eccetera. Eppure è sempre dello stesso simbolo, cioè del serpente stiamo parlando. Quindi se lo leggo da un punto di vista archetipale, cioè anziché calato nei singoli contesti culturali, lo prendo in sé per sé, nella sua nudità simbolica, io posso far emergere dallo sfondo, far distaccare dallo sfondo gli elementi principali, le caratteristiche della natura del serpente, per esempio il fatto che deponga la pelle. Questa è una caratteristica molto forte a livello simbolico, perché il cambio della pelle è un'immagine del rinnovamento, dell'immortalità, del ringiovanimento, per esempio. Il suo movimento sinuoso, il fatto che strisci per terra con questi movimenti sinuosi, è un'altra immagine simbolica, una sua caratteristica, che noi possiamo attribuire o vedere attribuire ad alcune qualità dell'animo umano, che si comportano più o meno come un serpente. Per lungo tempo sembrano stare ferme, poi all'improvviso possono scattare. Pensate alla natura del desiderio nella sua accezione più ampia. L'eros, per esempio. Questi sono dei piccoli esempi per capire che quando si tratta di archetipi, stiamo parlando di qualcosa di universale. Un buon approccio al regno degli archetipi è lo studio delle cosmogonie, che è un parolone per indicare semplicemente le varie leggende o miti sulla creazione del cosmo, sulla generazione del cosmo. Perché le varie cosmogonie che sono state tramandate in diverse culture, da oriente a occidente, da nord a sud, in epoche lontane, mostrano alcune caratteristiche archetipali e quindi universali. Una delle cose che ha tratto maggiormente l'attenzione degli studiosi di archetipologia è il concetto di inizio. Proprio l'archè, possiamo dire in questo caso il simbolo dell'archetipo, no? L'inizio. Forse l'inizio è solo una necessità logica. A noi piace immaginare che ci sia un inizio perché ci scontriamo con il fatto che c'è una fine. E questa visione o viene proposta in modo lineare in occidente, l'inizio è la genesi simbolicamente parlando, la fine è l'apocalisse, oppure in una visione come in oriente circolare, dove l'inizio e la fine coincidono, cioè la fine è il nuovo inizio. E a sua volta il nuovo inizio. Quest'idea dell'inizio ha delle caratteristiche, dicevo, in comune tra diversi ambiti culturali. Io vi propongo innanzitutto qui un'immagine, che forse avrete già visto perché è piuttosto nota, che è una parte di un affresco che si trova a Pompei. Questa è l'immagine, la riproposizione in immagine, di come l'immaginario dell'epoca si rappresentava quel dio che va sotto il nome di Caos. Noterete da quest'immagine una sorta di inespressività, cioè non sembra trasmettere un'emozione ben precisa, e soprattutto la sua bocca è aperta. Caos è un termine che etimologicamente viene ricondotto al nostro, quello che tradurremmo, con spalancare. Anche se noi immaginiamo sempre il caos come disordine, l'etimologia lo riporta invece al fatto di aprire, di spalancare. Questo perché in realtà il termine greco, che ha la desinenza in os, viene dal sanscrito ka, che è un termine che è particolarmente in uso nel buddismo. Chi se ne intende ricorderà che la prima nobile verità del Buddha è che sarvam, tutto, è dukkha, cioè disagio. E quel ka di dukkha indica una cosa ben specifica, il buco che si trova al centro delle ruote dei carri. Quello era il termine che indicava quello spazio vuoto lì, che viene riempito poi dall'asse della ruota per consentire alla ruota di girare. Inutile che vi dica che anche la ruota è protagonista di diverse vicende simboliche nel mondo buddista, ma un po' nell'orizzonte orientale in generale. Pensate a Samsara, Kala Chakra, eccetera. Ora, caos, in quanto inizio, è un'apertura. Molte cosmogonie iniziano con uno squarcio nelle tenebre dell'inizio. Impariamo quindi due nozioni contemporaneamente, dal confronto con diverse cosmogonie. La prima è che quasi tutti, quasi tutte le leggende o i miti sulla creazione, considerano lo stato iniziale qualcosa di tenebroso, cioè di non determinato, privo di qualità, privo di differenze, privo di luce. Possiamo affermare dal punto di vista archetipale che la notte ha un'esistenza simbolica autonoma, che non è in conflitto con la luce. viene prima. Questa grande notte è l'indifferenziato, perché nella notte, come diceva Hegel per spottere Schelling, tutte le vacche sono nere. Il fatto è che i colori non si vedono, le distanze non si vedono, le differenze non si vedono. E questa indistinzione viene bene alla logica per indicare il nulla che noi sappiamo sulla nostra provenienza e sulla provenienza della natura e del cosmo. Ci siamo? Da questo nulla a un certo punto succede qualcosa. Che cosa succede? E qui troviamo un'altra sorta di tacito accordo tra le varie dottrine o leggende o miti sulla creazione. Qualcosa è stato separato. L'atto iniziale è un atto di separazione. Solo dopo questa separazione si avvia la creazione e il tempo. Questa separazione, per esempio, riecheggia nell'Antico Testamento, nella prima frase della Torah, In principio, Bereshit, Barah Elohim, creò Dio, i cieli, Shamayim, e la terra. In principio creò i cieli e la terra. Cosa vuol dire? Due elementi distinti. Questo è il principio. Gli ebrei hanno subito, diciamo così, una lunga dominazione, cattività, per meglio dire, presso gli egizi. E gli egizi inaugurano la loro principale cosmogonia con un atto di separazione. All'inizio la dea della volta celeste, Nut, copula con il dio Terra, Geb. E la loro unione implica che non ci sia uno spazio. L'intervento di una divinità intermedia, che va sotto il nome di Shu e che indica l'elemento umido, serve a separare il corpo di lei dal corpo di lui. Cioè, praticamente, Shu lo troverete spesso rappresentato in questo modo. Come se sostenesse la volta celeste. Quindi, alza, come un cric, poggiando i piedi sulla terra, alza il cielo. E questa apertura dello spazio, qui la vedete, rappresentata simbolicamente nell'apertura della bocca del caos. Quindi, togliamoci dall'impiccio che noi abbiamo ordinariamente quando trattiamo il caos come se fosse un semplice disordine, cioè il contrario dell'ordine. Inizialmente è l'aprirsi di che cosa? Dello spazio sufficiente affinché le cose esistano. In assenza di questo spazio vi è la compressione unitaria della notte e quindi non esiste nulla. Il passaggio dal nulla a qualunque cosa è l'aprirsi di uno spazio. Tenete presente che, ad esempio, quando abbiamo quella seconda parte della cosmogonia nell'Antico Testamento, quella dei cosiddetti sette giorni, notate che il divino dispone gli elementi cosmologici attraverso delle separazioni. Il primo giorno, infatti, o primo momento, dovremmo dire, distingue la luce dalle tenebre, e anche questa è una separazione. Il secondo giorno le acque superiori dalle acque inferiori, qualunque cosa voglia dire questo. Comunque è un'altra separazione. Poi emergono le terre dalle acque, e qui abbiamo l'opposizione tra solido e liquido. E quindi tutto per opposizioni. Dopodiché negli altri tre giorni si occuperà di riempire quegli ambienti con i legittimi abitanti. Stelle e luna per la notte, sole per il D, per esempio. Oppure gli uccelli dell'aria e le creature marine. E infine gli animali sulla terra e l'uomo. Cosa fa il settimo giorno? Noi diciamo si riposa. In realtà una traduzione un po' forzata, visto che è più vicino all'originale ebraico, il termine si ritira. Cioè si ritrae. Il ritrarsi del demiurgo o del divino che ha disposto la creazione serve a concedere spazio ancora una volta affinché la creazione possa muoversi ed esistere. L'esistenza come un precipitato, non so se mi riuscite a seguire, è dato dal fatto che ci si è tirati indietro lasciando lo spazio sufficiente. Non è molto diverso da quello che capita a chi ha l'esperienza di crescere un figlio, per esempio. Innanzitutto la gravidanza già è la conquista di spazio all'interno del ventre della madre da parte del feto che poi diventa il bimbo pronto a nascere. Una volta che un neonato occupa uno spazio e i due genitori concedono uno spazio al neonato. C'è la culla che diventa un box, che diventa una cameretta, che diventa l'intera casa e così via. E tutto questo movimento creativo va di pari passo con la concessione dello spazio sufficiente. Giusto. Mi siete riusciti a seguirmi fin qua? Devo calibrare sempre un po' il linguaggio e spero di essere chiaro. La bocca aperta inizialmente quindi non ha un'accezione negativa, è semplicemente lo spazio in cui vediamo abitato poi dalla creazione. Ma poiché noi veniamo da quello spazio lì, nel corso del tempo, il fatto di essersi affermati, diciamo, sulla Terra o nelle nostre condizioni, ci fa temere di riprecipitare nello spazio oscuro che precedeva l'apertura, da cui noi veniamo. E questo sottile terrore, anche psicanaliticamente, fa interpretare lo spazio aperto con l'immagine del baratro o della grotta, non più come qualcosa di accogliente e rassicurante, come il grembo iniziale della madre, ma come qualcosa di temibile in cui si rischia di perdere l'identità, in cui si rischia di nuovo il ritorno all'indifferenziato. È passato ovviamente molto tempo prima che l'essere umano riuscisse a differenziarsi, cioè a sviluppare una coscienza che fosse autonoma rispetto all'ambiente circostante. Pare, secondo diversi studiosi, Jung, Eric Neumann, Eduard Edinger, per citarne alcuni tra i più noti ed importanti, pare che inizialmente l'immaginario collettivo dell'umanità fosse di complete identità con l'ambiente circostante, perfetta continuità tra il dentro e il fuori. Forse si può dire che si era tutto inconscio, come può capitare più nel nostro, per come la vediamo noi, al regno animale, capite? Oppure al neonato, che è tutto emozioni, tutto sensazioni, tutto percezioni, ma non ha ancora sviluppato la memoria storicizzante dell'io che si rende autonomo poi dall'ambiente circostante. Quest'atto di separazione iniziale, che poi è anche ben rappresentato dall'emblema del taglio del cordone ombelicale, come atto iniziale di indipendenza, di venire al mondo, eccetera, comincia a rivestire poi dei connotati negativi, qui avete un'immagine tratta da quei libri miniati, che costellano un po' la storia del cristianesimo medievale, in particolar modo medievale, ma anche rinascimentale, in cui la bocca aperta è resa più aggressiva e spaventosa con l'introduzione delle fauci, dei denti, aguzzi, e l'immagine che sovrasta, mentre nel caos non è qualcosa che incute immediatamente timore, sembra un po' apatico, potrebbe essere morto in un certo senso. Qui invece è una bella differenza passare da un orizzonte politeista e non particolarmente religioso a quello monoteista e particolarmente attratto dal fervore religioso, intriso di fervore religioso, la bocca spalancata diventa l'inferno e non sono a fattorare nell'iconografia tradizionale le immagini dell'inferno come bocca o come grotta da cui essere riscattati, essere salvati in un certo senso. Questa è una semplice immagine di una grotta che richiama un po' queste fauci. Però nelle grotte l'uomo inizialmente ha abitato. Prima di costruirsi delle case, prima di cominciare a intervenire attivamente su madre natura per farsi una capanna, era la natura stessa offrire dei luoghi di riparo e gli squarci nella terra consentivano un buon riparo. Era un uomo ancora, era un'umanità ancora uterina, nel senso di vicinanza con quella apertura da cui siamo scaturiti e che coglie nella natura innanzitutto l'idea di un grembo che avvolge, che ripara, che nasconde e che protegge. Ok? Solo molto più tardi con l'affermarsi per esempio della stanzialità rispetto al nomadismo, col segnare dei confini che la terra non ha e determinare quindi la differenza tra la proprietà mia e la proprietà tua, solo con l'agricoltura per esempio rispetto alla caccia o alla raccolta di ciò che si trovava in giro solo a quel punto si vede un velo di terrore e di negatività rivestire queste immagini simboliche. Forse secondo alcuni e in particolar modo qui mi riferisco a Eric Neumann che fu un allievo di Jung e uno di quelli che Jung preferiva tra l'altro forse si può scoprire che l'inizio simbolico per rappresentare contemporaneamente sia quell'apertura quella bocca del caos da cui proveniamo sia l'inizio del tempo storico cioè quando l'uomo percepisce lo scorrere del tempo sia anche quel grembo e questa immagine qui l'uroboro letteralmente mangia coda un sauro altre volte un serpente che ingoia se stesso la testa cioè l'inizio e la coda cioè la fine coincidono l'alfa e l'omega di questa figura coincidono questa è un'immagine che è stata trovata in diversi ambiti culturali molto antichi e che ha un grande effetto sulla psiche perché secondo Neumann per esempio è una rappresentazione dell'inconscio è una rappresentazione inconscia cioè inconsapevole dell'inconscio quella grande energia che sta dietro la nostra coscienza o dentro la nostra coscienza o come si diceva una volta sotto la nostra coscienza quando era ancora in voga la nozione di subconscio che in fondo è così incandescente e viva come materia che brucia se stessa continuamente e il linguaggio appropriato di quella parte così profonda di noi che è il nostro legame concreto in termini di coscienza con l'origine è il linguaggio simbolico nell'Uroboro quindi con questa immagine abbiamo un anello chiuso un cerchio chiuso che ha anche a che fare con il tempo qui lo vedete chiaramente in un rilievo al centro dell'Uroboro campeggia una clessidra in modo di contare misurare lo scorrere del tempo perché ha a che fare con il tempo tutto questo dunque voi pensate che uno dei motivi per cui si considera che l'uomo si sia distinto dal regno animale è che ha cominciato a riservare un trattamento particolare ai cadaveri cosa che l'animale non fa quando anticamente si è cominciato a seppellire il corpo di un morto e a posizionarlo addirittura a postura fetale pensate l'idea del cerchio che si chiude il ritorno al grembo culla tomba quando è iniziato questo atto significa che l'uomo si è staccato dal regno animale e assume una consapevolezza magari primordiale incerta zoppicante sicuramente della finitudine della transitorietà della nostra vita e quindi dello scorrere del tempo non è ancora un uomo in grado di dire sono in un progresso storico sicuramente ma è un uomo che ha una percezione di sé nella temporalità nello scorrere del tempo sa di essere iniziato in un certo punto e sa che deve finire prima o poi in un altro punto e questi due punti vengono collegati nell'immagine di un cerchio ecco perché seppellire nella posizione fetale questo è un argomento di grande interesse perché il tempo e soprattutto lo scorrere del tempo è all'origine della maggior parte della stragrande maggioranza dei simboli e degli archetipi che hanno eretto come bastioni del nostro inconscio collettivo le dottrine religiose sia quelle antiche che possiamo definire sciamaniche sia quelle politeiste sia quelle monoteiste e addirittura anche oggi l'ateismo cioè la possibilità di pensare sì senza un dio la possibilità di rinunciare a qualunque rapporto con l'intrascendente con l'orizzonte divino è pur sempre frutto di un rapporto strettissimo con l'agonia generata dallo scorrere del tempo cioè vi sto dicendo che anche il disimpegno nei confronti del trascendente anche il voltare le spalle nei confronti del trascendente è pur sempre una risposta all'angoscia generata dallo scorrere del tempo noi anche se non ne parliamo mai siamo vivamente di fronte alla mortalità non ci piace parlarne non è argomento di discussione a meno che qualcuno non ti racconti qualcosa di brutto che è successo a qualcuno chiaramente eppure questo è uno degli elementi di scontro che ho con come li potrei chiamare perché dire colleghi sembra che io faccia veramente un lavoro con quelli che come me fanno un po' di divulgazione di ordine spirituale e che trattano la morte come se fosse un tabù cioè non se ne deve assolutamente parlare e non solo non se ne deve parlare anche le immagini di morte sono bandite da certi ambienti sembra che tu sia antispirituale se hai una vicinanza simbolica anche solo simbolica al tema della morte o hai a che fare col maligno oppure c'è qualcosa in te che non va no? ma come? è la luce? il fatto è che noi da questo impiccio del rapporto con la mortalità non ci siamo ovviamente ancora levati e siamo lungi da levarci chiaramente questo è per dirvi che ciò ha scatenato e la scaturigine di buona parte della simbologia alcuni elementi li tratteremo oggi qui avete un'immagine l'immagine del Dio Shu che vi indicavo prima solleva il corpo della Dea Nut che è la volta celeste e questo qui in azzurro invece in basso sarebbe il Dio Geb cioè l'elemento terra il rapporto tra alto e basso diventa il rapporto tra l'uomo che è in basso e tutto ciò che è al di sopra dell'uomo l'invisibile il trascendente le grandi forze anche brutali a volte violente che invadono la nostra vita attraverso i fenomeni di madre natura che normalmente non sono controllabili dal nostro punto di vista è possibile che in questo sciamanesimo originario come hanno detto alcuni forse la sola e vecchia religione primitiva che metteva più o meno tutti d'accordo fosse anche implicato un argomento di ordine percettivo cioè siccome la coscienza non si distingue separata dal mondo il mondo viene percepito in un certo modo allora se io vedo una cascata quella cascata è direttamente viva intrisa di vitalità da essere o da sembrarmi una manifestazione diretta dell'orizzonte trascendente così per un albero così per l'arcobaleno così per una tempesta questo cosa ci ricorda l'epoca in cui noi eravamo piccoli fate mente locale nella nostra primissima infanzia al rapporto che la nostra coscienza e percezione aveva con i fenomeni della natura la meraviglia lo stupore o la paura erano gli unici due poli costanti cioè o ci si stupiva nella bellezza o ci si terrorizzava nella paura e questo sembra essere rimasto un po' di fondo sembra essere rimasto un po' la caratteristica del sacro il sacro si presenta alle nostre coscienze come fascinans et tremendum cioè affascinante ma anche tremendo terribile se vi interessa c'è un bellissimo libro è un po' difficile lo ammetto di Rudolf Otto intitolato il sacro che per chi ha un po' di struttura scusa si il titolo originale ovviamente è Das Heilige poi ci sono dei saggi dentro anche almeno credo io avevo un'edizione italiana che probabilmente non c'è più adesso però sicuramente si può trovare è un libro bellissimo bisogna avere un po' di struttura per poterlo leggere vi avviso non è semplice e Rudolf Otto è stato considerato un po' anche dai filosofi come uno degli esponenti principali della riflessione contemporanea o quasi sul sacro sul tema del sacro e mette proprio in luce questo rapporto duplice il fascino e la paura la meraviglia e il terrore ora nel corso del cammino che conduce l'uomo a una sorta di emancipazione rispetto all'ambiente circostante ci sono delle tappe sebbene il fluire del tempo sia unico noi possiamo segnare sempre a posteriori dei momenti chiave in cui la coscienza dell'umanità in determinate zone si libera dallo stato che aveva percettivo o di coscienza che aveva precedentemente per entrare in una nuova dimensione della coscienza o della percezione per esempio uno di questi passi è stato siccome per sciamanesimo universale si intende una sorta di animismo dove ogni albero è vivo dove ogni elemento naturale è vivo uno dei primi passi è stato lo scatto diciamo è stato quello di percepire quell'albero quella cascata o quella tempesta non solo come la diretta manifestazione di un orizzonte trascendente ma come l'effetto di una causa invisibile posta dietro quel fenomeno mi sono spiegato? mi spiego meglio anziché dire quell'albero è dio quella montagna è dio quella cascata è dio quell'arcobaleno è la dea eccetera si comincia a dire il dio dell'albero il dio della montagna il dio della cascata il dio della tempesta e successivamente il dio di tutti gli alberi il dio di tutte le tempeste il dio di tutte le cascate capite? questo è un graduale passaggio di astrazione in cui la causa di cui il fenomeno è l'effetto è considerata invisibile ed è posta al di là dell'effetto stesso al di là del fenomeno stesso noi ci relazioniamo all'effetto al fenomeno ma sappiamo che dietro c'è qualcos'altro quel dietro comincerà a diventare il fondamento di quelle che chiamiamo religioni anche nel senso degli aspetti cultuali non ho detto culturali cultuali cioè del culto in particolar modo del rito strumenti più o meno articolati per cercare di porre una relazione tra la coscienza di noi che siamo qui fragili inadatti a dibatterci per qualche anno sulla crosta di questo pianeta e invece questa potenza non visibile nei confronti della quale cerchiamo di intessere una relazione anche solo inizialmente per sopravvivere perché i riti inizialmente erano votati soprattutto a il raccolto la salute la prole cioè tutte cose che erano determinanti per la sopravvivenza di una comunità prima che di un soggetto ecco questo è un altro elemento importantissimo più vado indietro nel tempo e meno ho tracce dell'individualità è la comunità la protagonista lo sciamanesimo per noi è innanzitutto quello siberiano lo avrete sentito che lo sciamanesimo per quello che riguarda il nostro continente ha origine in Siberia sappiate che e questo è molto interessante quando gli sciamani sanno che la comunità si sta predisponendo per cacciare un animale si viveva solo di cacciagione ovviamente compiono un rito che serve a propiziare la caccia ma una volta che l'animale è stato cacciato e portato nelle cucine succede che altri riti devono essere compiuti dagli sciamani per riequilibrare i rapporti con la natura visto che qualcosa è stato sottratto alla natura qualora uno della comunità si trovasse in una condizione di difficoltà per esempio sta su un lago ghiacciato si frantuma al ghiaccio e finisce a metà dentro e potrebbe essere salvato oppure uno si perde nella tundra e potrebbe essere cercato la comunità non lo salva e non lo cerca perché pensa che la natura si stia semplicemente riprendendo qualcosa di quello che le è stato tolto questo pensiero per noi potrebbe sembrare allucinante il non aiutare una persona in difficoltà ma questo è dovuto solo alla nostra percezione forte del valore del soggetto che può a buon diritto o meno fare tutto il possibile incluso fottere la comunità per la propria sopravvivenza e qualcosa in più della sopravvivenza ultimamente altrimenti in tempi molto remoti o in comunità molto lontane da questi orizzonti la comunità è più importante dell'individuo l'individuo scompare all'interno della comunità e l'unica sopravvivenza che conta è quella del gruppo non è lontano da quello che capita in alcune presso alcuni animali per esempio una specie di selezione naturale del debole ora questi discorsi possono sembrare crudi però intanto nascondono qualcosa all'interno e cioè il fatto che se uno sciamano deve fare un rito riparatore dopo aver cacciato dopo che è stato cacciato un animale perché ha l'impressione che si sia sottratto qualcosa alla natura che cosa significa che l'uomo non è più anche in tempi già così remoti totalmente identificato nella natura cioè comincia una differenziazione di ordine addirittura conflittuale perché poi diventerà un conflitto con quella natura in cui invece l'uomo la coscienza dell'uomo era pienamente identificata e immersa all'inizio questo distacco questo passo indietro comincia a segnare anche se in modo flebile e labile i contorni di quello che chiamiamo uomo come se fosse superiore diverso distante rispetto alla natura cioè all'ambiente ecco allora che quel grembo che ci ha accolto potrebbe diventare come abbiamo visto nelle immagini precedenti qualcosa di terribile spaventoso questo ha a che vedere con l'affermazione dell'io non tanto l'io l'ego del soggetto dell'individuo è ancora un io della comunità pensateci bene Buddha vi faccio questi esempi per capirci Buddha cresce in seno all'induismo l'induismo è una nozione inventata dagli occidentali in realtà le religioni hindu sono un fascio intricatissimo una trama complessa di diversi tipi di culti anche molto lontani l'uno dall'altro Buddha inizialmente segue gli asceti poi però non è convinto da quello che fanno propongono eccetera comincia a percorrere un proprio cammino che diventerà poi la sua predicazione così avremo Buddha che sta all'induismo come Cristo sta all'ebraismo anche Gesù viene cresciuto nell'ambito della cultura ebraica ma a un certo punto cosa fa? si stacca dai padri dall'ortodossia comincia a predicare qualcosa di diverso e ovviamente come risponde l'ortodossia che l'aveva cresciuto? male non stiamo a fare la storiella ma non sono affatto contenti Buddha fa la stessa fine anzi è Cristo che fa la fine di Buddha essendo Buddha di cinque secoli prima di Gesù nel senso che gli hindu quando lui comincia a predicare soprattutto alcuni punti su cui non mi voglio dilungare perché ci perdiamo però la non esistenza dell'anima dell'atman è uno dei cardini invece dell'induismo è che l'anima esista e che coincida con l'assoluto quindi questo comincia a dire che non c'è atman questo è il termine che viene banalmente tradotto con anima e quelli ovviamente ti dicono ma tu te ne devi andare via da qui il risultato qual è? che il buddismo è nato in India Buddha ha predicato in India ma le fortune del buddismo sono solo fuori dall'India la percentuale dei buddisti in India è bassissima il buddismo è forte fuori dai confini indiani nel sud est asiatico in Cina Giappone eccetera questo per dirvi che c'è un un ulteriore passaggio che c'è un io della comunità come distinto alla natura e poi ci sarà un io dei soggetti quello che ha portato all'individualismo individuale proprio in cui viviamo noi oggi come percezione o stato di coscienza qui vabbè è solo una suggestiva immagine del cielo questo ha che vedere vorrei che puntualizzassimo questo aspetto questo ha che vedere con il passaggio dal nomadismo alla vita stanziale è determinante questo passaggio dal cacciare e raccogliere ciò che la natura offre e quando non c'è altro mi sposto o il clima qui è diventato pessimo mi sposto ha invece segnare confini bucare la terra piantare semi tirar su cioè violentare la terra nel momento in cui nasce l'agricoltura il conflitto tra uomo e natura diventa aperto si inaugura il vero conflitto tra uomo e natura con l'agricoltura l'agricoltura è l'intervento diretto sulla terra questo va di pari passo con l'essere stanziale vi dicevo cioè si costruiscono delle case chiamiamole case non erano case capanne fate come vi pare ma non sono più le grotte a offrire un rifugio gli alberi su cui prima potevo sostare a dormire ora vengono tagliati il legno viene usato per fare delle barche il legno viene usato per fare delle capanne per esempio c'è anche l'utensile come immagine simbolica forte della possibilità di bucare tagliare spezzare inchiodare elementi della natura l'uomo comincia un'opera alchemica sulle forze della natura vuol dire che la distanza che sta prendendo dalla natura è maggiore vi è chiaro questo? conflitto che dura ancora oggi dove cerchiamo poi in realtà anche questo è un elemento quasi paradossale cerchiamo sempre più di essere padroni e di avere il controllo sulla natura e sulle forze della natura vi ricordate per esempio il terremoto dell'Aquila terremoto dell'Aquila poi si scatena la polemica ma come nessuno l'aveva previsto quando ufficialmente secondo molti non è possibile prevedere i terremoti però qualcuno è finito indagato eccetera nella comunità scientifica perché come non hai previsto il terremoto ma ci si aspetta addirittura che siamo già in grado di prevedere terremoti questo è un esempio il primo che mi è venuto in mente però lo vediamo col gigantismo delle nostre metropoli le nuove torri di Babele queste costruzioni verticali sempre più alte in un afflato prometeico di salita verso il cielo di conquista questa verticalità si riflette nella nostra nel nostro ego che si fa verticale si fa conquistatore e vuole spadroneggiare eccetera eppure quella stessa natura da cui ci stiamo o che pretendiamo di controllare in realtà siamo noi primi a renderla incontrollabile perché noi che ne sappiamo degli effetti che potrebbe avere l'overdose di inquinamento degli ultimi 50 anni nel sistema oddio qualche presentimento di questo già si avverte però se io avveleno il piatto in cui mangio ci sta che alla fine muoia non è impensabile giusto quindi per il concetto della distanza tra noi e la natura il divino che prima era nell'albero nel arcobaleno nella cascata poi dietro l'albero dietro l'arcobaleno dietro la cascata si sposta sempre di più diventa sempre più astratto comincia ad abitare quella parte realmente irraggiungibile per noi all'epoca i cieli quindi il rapporto col divino che prima era molto orizzontale comincia a diventare un rapporto verticale con Dio lo capite questo no? verso il cielo allora nasce una tensione la necessità di tendere verso l'alto impone tutta la simbologia della ascesi della salita questa è una tensione il mito di Prometeo è perfetto per indicare questo Prometeo è un titano titano teitan in greco dalla radice indoeuropea tan che significa tendere tendere quindi uno stato di tensione i titani erano un po' tusi non conoscevano compromesso e quindi cosa succede che Prometeo che era uno di questi va in cielo ruba la fiamma la porta giù sulla terra quindi c'è questa addirittura questo furto dal cielo portare giù tra gli uomini l'idea era fare un favore chiaramente e quindi gli spetta una punizione terribile ma prima di essere punito Ermes parla con lui quando è già incatenato alla roccia per cercare di convincerlo a chiedere scusa a Zeus semplicemente ma essendo lui un titano e quindi molto rigido non si piega e dice no piuttosto sconto la pena e la pena come saprete è quella dell'aquila che divora il fegato all'epoca il fegato era considerato la sede dell'anima perché è un concentrato di sangue quindi è con il cielo e in particolar modo qui vi ho proposto un'immagine spiraliforme quella della formazione di una galassia perché le spirali sono state tra le prime figure che l'umanità ha prodotto quando ha cominciato a incidere o disegnare qualcosa sulle pareti delle grotte in cui abitavano o in cui dormivano il movimento spiraliforme è un'immagine archetipale la troviamo pressoché ovunque ed è un'immagine contemporaneamente del movimento di quel nomadismo forse il retaggio ricordo di quell'andare in cerchio ma anche qualcosa che ci ricollega alla potenza degli elementi l'acqua e l'aria hanno questo movimento che è il gorgo questa è la formazione di un ciclone questa è l'acqua vedete vista da sotto l'acqua crea proprio l'immagine spiraliforme questi sono gli studi di Leonardo sui gorghi d'acqua Leonardo attraverso gli studi sui gorghi d'acqua arrivò a disegnare dipingere i capelli intrecciati di diverse figure femminili che lui ha dipinto a partire dalla rappresentazione di come si muove l'acqua l'osservazione pura di questo elemento questo ve lo propongo perché l'acqua è forse tra i vari elementi cioè il fuoco l'aria la terra è forse quello con cui l'uomo all'inizio ha un rapporto più intimo c'è un legame con la maternità e c'è un legame con il tempo di cui abbiamo già parlato nell'uroboro infatti anche l'acqua scorre e lo scorrere dell'acqua è un'immagine simbolica dello scorrere del tempo Eraclito Eraclito che dice non mi posso bagnare due volte nello stesso fiume nella stessa acqua in realtà fa una riflessione sul tempo e sulla caducità l'impossibilità di tornare indietro è anche perché il fiume scorre sempre in quella direzione se va da ovest a est continuerà a scorrere da ovest a est così come il tempo avanza e non torna mai indietro queste sono assimilazioni simboliche abbastanza forti anche l'elemento aria è capace di questo di questa stessa potenza spirale lo vediamo nel tornado che è un termine che significa proprio implica proprio il tornare indietro questo elemento spaventa l'uomo anticamente a tal punto da assimilare questo accade in grecia per esempio l'immagine di un tornado al meccanismo della follia infatti uno degli dei più spaventosi delle divinità più spaventose del mondo greco è tifone ancora oggi usiamo il termine tifone per indicare questi uragani tifone è rappresentato come un gorgo o una spirale che si avvolge su se stessa e la radice del termine riporta a toufo che significa tornare indietro o avvolgersi indietro questo avvolgersi indietro dà origine a un termine che assomiglia a tifone toufo che significa matto matto proprio non la sacra follia l'ebbrezza matto proprio da legare cioè colui che circola e non è in grado di sviluppare i pensieri qual è la caratteristica della razionalità e della logica l'inizio lo sviluppo e la fine cioè la conseguenzialità invece quando abbiamo questo apparente disordine di tornare indietro ecco ecco che quel caos che vi ho proposto come immagine iniziale comincia a diventare un sinonimo di disordine nella coscienza siete riusciti a seguirmi fino a qui? sì? spero non sia troppo difficile anche il fuoco che per natura tende a salire nella danza delle sue fiamme ha rappresentazioni e movimenti che ricordano la spirale non in modo così esplicito e chiaro come accade con l'acqua o come accade con il tornado però anche la fiamma ha un movimento spiraliforme sembra che la natura degli elementi abbia qualcosa in comune con questo archetipo della spirale la intravedete in quasi tutte le immagini della fiamma si intravede questo movimento questa torsione la storia la storia dell'arte prende a prestito da madre natura alcuni di questi elementi e anche se i nostri occhi non sono abituati a riconoscerli per esempio in due colonne di questo genere noi dovremmo avere un richiamo e il nostro inconscio ce l'ha alla torsione della fiamma se l'elemento acqua la cui natura è quella di precipitare e di scorrere verso il basso viene più facilmente assimilata come simbolo alle dinamiche dell'inconscio al retro della coscienza a ciò che ci porta verso le grotte verso le cavità verso ciò che sta sotto il fuoco al contrario diventa l'immagine della salita e della ascesi per buona parte quindi vedremo che nelle cosmogonie si introduce spesso l'elemento del calore inizialmente era il calore di un grembo che protegge è come il covare poi più tardi nei sistemi che hanno proiettato il divino fuori dalla natura nell'alto dei cieli il calore diventa invece quello della fiamma la fiamma che tende verso l'alto la fiamma che trasforma addirittura arriva quasi a cancellare del tutto ciò di cui si nutre e dico apposta si nutre perché il fuoco va come diciamo in italiano alimentato nel senso gli devi dare da mangiare nei veda che sono i documenti che rappresentano l'atto fondativo della cultura hindu il primo e più antico dei veda il rig veda è del 1500 avanti cristo e nel rig veda il primo inno è dedicato al dio fuoco Agni che era detto la bocca degli dei proprio perché il fuoco vive solo finché ha qualcosa da mangiare nel momento in cui non c'è qualcosa da mangiare la fiamma è destinata a spegnersi a estinguersi questa diventa il parallelo del percorso spirituale dei soggetti quando nascono queste religioni che hanno posto il divino fuori dalla natura noi condizione terrena di esistenti è lui o lei o loro insomma l'orizzonte divino lontano da noi al di sopra di noi come facciamo per comunicare dobbiamo renderci simili alla fiamma quindi da lì nasceranno tutte le dottrine sull'autotrasformazione l'autoconsumazione e il sacrificio di sé perché il fuoco non lo accendevano con gli accendini o gli accendi gas avevano il legno per accendere il fuoco avete presente l'atto di accensione di un fuoco attraverso il legno si prende un bastoncino si infila in una fessura intagliata nel legno e si comincia lo sfregamento questo sfregamento richiama secondo alcuni autori uno che vi consiglio di leggere è Gaston Bachelard scritto Bachelard che ha scritto dei libri bellissimi tra cui uno la psicanalisi del fuoco dove parla in mille modi dell'elemento fuoco e spiega secondo me è uno delle sì abbastanza tosto però secondo me è una delle migliori spiegazioni sugli elementi e la trovate in questo autore e lui collega il gesto dell'accensione del fuoco non ha un'idea avuta quando tre persone quattro si sono messe a tavolina hanno detto ma allora come cacchio lo accendiamo sto fuoco non è frutto di un'ideazione è nato come un gioco che si collega nel suo movimento all'atto erotico cioè lo sfregamento e la dimensione della ripetitività del gioco del bambino fa scoprire che se insisti un po' hai il calore e poi la scintilla e poi la fiamma non una decisione di ordine razionale capite ma l'affiorare nella coscienza di qualcosa che era legato più a una gestualità infantile vicina alla dinamica erotica perché dico questo perché in India quel bastoncino con cui si accende il fuoco viene chiamato l'inga che è anche il modo con cui si chiamano i genitali maschili e la fessura in cui si infila il bastoncino per sfregamento si chiama ioni che è il modo con cui chiamano in India i genitali femminili quindi hanno associato l'idea dell'accensione del fuoco a quella dell'atto sessuale chiaramente e la fiamma rappresenta il momento dell'orgasmo lo scaturire della fiamma in queste metafore sono molto in uso nel pensiero antico perché era un pensiero di tipo analogico cioè per accostamento di forme e non un pensiero di tipo logico descrittivo o analitico cioè per separazione era l'accostamento tra le forme a fare la differenza quindi anche l'arte dicevo prende a prestito e comincia a innalzare dei templi in cui i protagonisti saranno scale campanili torri guglie cioè tutti elementi che che cosa hanno in comune andare verso l'alto possibilmente a forma di punta così le mitologie abbandoneranno la visione positiva che si aveva della valle del baratro dell'abisso della discesa della bruma della nebbia per promuovere invece le vette possibilmente innevate la luce del sole il cielo terzo azzurro la velocità anziché la lentezza la punta anziché la larghezza capite? sono proprio due dimensioni simboliche quello del paradigma della salita costituisce l'elemento spirituale che cosa vuol dire costituisce l'elemento spirituale? secondo voi alla luce di quello che abbiamo detto fino ad ora se l'uomo originariamente era tutt'uno con l'ambiente circostante e psiche uguale mondo inizialmente l'inconscio non era inconscio nel senso era l'unico stato di coscienza era ben presente ben visibile non esisteva quella che noi come nozione noi abbiamo bisogno della nozione di inconscio perché non viviamo in quella dimensione lì noi ci siamo costruiti un edificio che è quello dello stato di coscienza della veglia conscio-razionale quello della scolarizzazione alla fine che poi diventa tirannico dominante e non lascia molto spazio alle alternative nemmeno all'onirico no? la nozione di inconscio diventa importante diventa qualcosa di determinante solo nel momento in cui la psiche non coincide più con il mondo cioè nel momento in cui la coscienza degli individui si stacca dalla natura il divino che prima abitava nella natura subisce una cacciata da quell'Eden che è la natura e viene espulso come l'uomo è stato espulso dall'Eden anche Dio è stato espulso dalla natura e si arriva poi nei monoteismi a dire non confondete mai il creatore con la creazione guai a mischiare il trascendente con l'immanente guai a mischiare Dio con le cose con gli enti questa divisione provoca in noi una frattura e quindi dove lo andiamo a cercare quel Dio che ci porta a tendere verso l'alto perché è stato portato fuori da qui verso l'alto io posso adorare ma difficilmente posso raggiungere posso pregare è la preghiera associata spesso all'immagine del fumo che sale pensate anche nel contesto dell'Antico Testamento ma anche nell'Apocalisse di Giovanni che riprende l'Antico Testamento il fumo dell'incenso che sale verso Dio è proprio la preghiera come immagine simbolica il fumo eh sì anche questo è archetipale ovviamente perché il fumo tende a salire ed è vista la sua natura non determinata proprio come quel tipo di sentimento che ti porta verso l'alto però non avendo la possibilità di raggiungerlo questo movimento verso l'alto in parte è frustrato o relegato alle dimensioni della fede e del credo e quindi l'alternativa la possibilità alternativa è quella di cercare dentro al di là di quella barriera che ci ha separato che ha separato la nostra coscienza dalla natura quando finalmente la nozione di inconscio comincia a avere senso sebbene non fosse ancora esistente la parola inconscio e non certo nel senso in cui lo intendiamo noi ma l'inconscio era già esistente allora inizia la mistica e la mistica si distingue come ritualità dalla magia la magia aveva a che fare la magia è primordiale è antichissima è orizzontale aveva a che fare con la natura e gli elementi aveva a che fare con il raccolto con la prole con la salute eccetera e spesso nei grandi e sofisticati riti dei veda per esempio i sacrifici che venivano compiuti agli dei erano dei riti molto articolati erano finalizzati non a diventare dio o crescere spiritualmente interiormente tutta quella roba lì viene dopo cioè viene quando noi non siamo più nella natura all'inizio era dammi un buon raccolto quest'anno e quindi cosa faccio bagno di sangue la terra la scelta di bagnare col sangue la terra non è casuale allora in india si praticava anticamente sacrificio umano poi sacrificio del toro del cavallo soprattutto del cavallo i riti vedici erano molto complessi avevano bisogno di sedici ufficianti cioè c'è un'orchestra un direttore d'orchestra e gli altri che eseguono ciascuno una parte c'era uno di questi sedici che era deputato solo a vibrare om i riti duravano due o tre giorni a vibrare om nel senso di assenso cioè come dire si va tutto bene si va tutto bene questo qua era deputato a rendersi conto se qualcosa nel rito andava storto bastava che una minima vibrazione per tv non fosse in accordo con questa orchestra che sta celebrando il rito alt lui ferma om che vuol dire no praticamente e allora o si rifà il rito oppure lui insieme ad altri compiono dei riti espiatori per riparare all'errore compiuto poi dite ah perché duravano tre giorni ok certo alto si ricomincia no in realtà erano molto lunghi erano elaborati e si sacrificavano poi per esempio questi animali per ottenere il sangue e bagnare la terra con il sangue bagnare la terra con il sangue è un atto simbolico che per loro non aveva un tratto simbolico è un tratto reale perché viene spiegato in modo molto semplice la donna che è la madre ha un sanguinamento mensile prima di essere madre nel momento in cui è gravida il sangue smette di scorrere dal suo corpo in quei nove mesi cosa succede secondo loro il sangue che non fuoriesce sta creando il feto lo nutre lo crea lo costituisce e quando il feto è pronto viene fuori quindi cosa succede che se io nutro di sangue la terra la fecondo e in un certo senso quel sangue creerà i frutti quindi è un atto simbolico ma per loro non era un atto simbolico è un atto pratico reale concreto in cui bagnando di sangue la terra la terra darà i frutti come la donna trattenendo il sangue in quei mesi crea un bambino genera un bambino comunque questa tematica dell'andare verso l'alto dà origine alla mistica solo nel momento in cui l'uomo si è separato dalla natura e la ricerca di Dio fuori al di là della natura non è possibile avviene l'alternativa è quella della ricerca interna dello sprofondare verso quella parte di noi che è legata alle origini di cui abbiamo parlato la bocca aperta di quel caos così nasce la mistica e la mistica è verticale è un tentativo di coltivare un rapporto diretto con il divino a partire da se stessi anziché passare da qualche istituzione religiosa qualche gruppo culto organizzato qualche clero ora quell'immagine delle colonne che avete visto che si torcono un po' ci riporta al simbolo del serpente che abbiamo citato prima il serpente arrotolato in forma di spirale come forma archetipale appare in diverse culture in molti casi il serpente è implicato nella creazione nella cosmogonia non è raro che intervenga il serpente ad esempio non so se avete mai sentito ho visto delle immagini del dio Vishnu che riposa sdraiato su un serpente poi dal suo ombelico esce un fiore di loto il fiore di loto si apre e voilà inizia la storia del mondo quel serpente è chiamato Shesha che letteralmente significa ciò che resta di cosa siccome la creazione e il tempo è circolare quando l'universo si riassorbe in se stesso si distrugge si dissolve rimangono dei frammenti dei residui della distruzione dell'universo precedente quei frammenti costituiranno la possibilità o la base materiale della creazione successiva quindi l'immagine di Shesha è sempre spiraliforme perché ogni giro è un'avvenuta creazione conclusa e il nuovo giro è la successiva creazione siccome il percorso di assorbimento ed espansione dell'universo in India dura da sempre e per sempre perché non c'è alcun inizio non c'è alcuna fine questo serpente è infinito di fatti un altro suo nome è Ananta forse è più conosciuto il nome Ananta dove l'ha a valore privativo come per il greco e Nanta significa fine quindi è il senza fine e questo riecheggia dall'Egitto con formule tipo il non nato l'ingenerato ciò che non ha origine nel nome il senza testa sono tutte simbologie affini anche nel linguaggio per indicare che l'inizio non ha mai avuto inizio e che le cose sono in quel modo da sempre con le loro vicende alterne qui avete una rappresentazione molto antica che viene dalla Cina dove il corpo di due serpenti lo vedete si intrecciano qui si sviluppa in due figure umane non è chiaro da quest'immagine riconoscere chi dei due è maschio o femmina ma reggono in mano un oggetto che determina chiaramente il fatto che uno sia maschio e l'altro sia femmina questi oggetti sono una squadra e un compasso la più antica rappresentazione della squadra e del compasso che sono l'icona simbolica della massoneria risalgono a alcuni secoli prima di Cristo questa è mitologia cinese e i due personaggi in questione si chiamano Nua e Fuxi e sono i demiurghi praticamente della creazione la squadra del compasso io non so dirvi se chi ha ideato come simbologia massonica poi l'unione della squadra del compasso o la sovrapposizione della squadra si sia ispirato a loro alla mitologia cinese oppure se questo sia un archetipo che ha affiorato in momenti diversi non lo so quest'immagine è molto antica la prima rappresentazione di quest'immagine è del secondo secolo dopo Cristo ma quel mito probabilmente risale al mille avanti Cristo per intenderci e quindi che cosa vediamo introdursi quell'uroboro che era un unico serpente in cui l'unico elemento di distinzione erano la testa e la coda adesso comincia a polarizzarsi in maschio è femmina la storia dell'androgeno lo dimostra se trovo le parole di Platone sul mito dell'androgeno dell'androgeno ve lo ve lo leggo e così fece un cielo circolare unico e solitario atto per sua virtù ad accompagnarsi a se stesso di nessun altro bisognoso bastevole e conoscitore e amante di se stesso poi più tardi l'uomo verrà creato e l'uomo viene creato come se fosse una sfera o una palla un cerchio è ovvio che Platone non era non è che pens ovviamente non pensava che l'uomo fosse stato creato come una palla come un cerchio sta parlando in un linguaggio simbolico evidentemente però l'inconscio ha formulato in quel modo lì l'idea del primo uomo o dell'inizio cioè quello che vi sto dicendo è che Platone pur non pensando che fisicamente fosse nato così non ha nemmeno pensato che fosse un simbolo cioè non è una riflessione razionale e il simbolo non è mai soprattutto in questi testi antichi non è mai un frutto di una riflessione di ordine razionale il simbolo affiora prima gli archetipi si subiscono si soffrono non vengono meditati e poi ideati a tavolino capite? affiorano nella coscienza così e poi dopo possiamo farci tutte le pippe mentali come io faccio che vogliamo su questo argomento vabbè anche colpa vostra che venite ad ascoltare se mi lasciaste solo evidentemente ora questa immagine questa è un'altra rappresentazione più moderna degli stessi Neuat e Fussi anche lì la squadra e il compasso questo leitmotif dei due serpenti intrecciati uno maschio e uno femmina qui si riconoscono chiaramente è qualcosa che troviamo come un archetipo universale la torsione di quella fiamma o il gorgo dell'acqua che abbiamo visto prima induce a livello di proprio isomorfismo cioè di somiglianza tra forme induce queste immagini il caduceo di ermete tutti abbiamo presente quell'immagine la vediamo nelle insegne delle farmacie regolarmente ed è proprio il richiamo lo stesso tipo di simbolo come forma anche lì il fatto che il serpente abbia a che vedere con la medicina e con la guarigione è interessante in un contesto culturale come quello occidentale dove il serpente era già passato dalle vessazioni del mondo ebraico ci troviamo invece ad avere a che fare con l'idea di farmacon e con la possibilità che il veleno come effettivamente è costituisca una cura cioè la possibilità di rendersi immuni a un veleno assumendo le piccole dosi di quel veleno i vaccini in teoria potrebbero avere un'idea simile come impostazione e anche nell'orizzonte tantrico dello yoga tantrico e in particolar modo di quel grande tema che va sotto il nome di fisiologia del corpo sottile fisiologia occulta seconda fisiologia eccetera cioè la mappatura del corpo umano con punti, linee e canali anche quella non decisa a tavolino tipo che io e te ci vediamo allora dove lo mettiamo come lo chiamiamo dove passa no sono esperienze percettive e poi semplicemente descritte cioè lo sento e quindi lo identifico e qui avete un'immagine molto classica che è quella del corpo sottile nei suoi canali principali il canale centrale che richiama proprio la verga di ermete no? è chiamato Sushumna ed è il canale in cui si snoda o sviluppa il serpente Kundalini e questi due che sono due serpenti vedete che sopra gli occhi si vede chiaramente la testa dei due serpenti che finiscono per baciarsi o guardarsi sono le due correnti una calda e una fresca una che accelera eccita l'altra che invece rallenta e calma chiamate Ida quella che calma e Pingala quella che accende e scuote e che si incontrano nel sesto chakra il proverbiale terzo occhio che va sotto il nome di Agia che vuol dire centro di comando sopra guardate chi ha disegnato questa immagine ha voluto mettere le ali vedete per richiamare il globo alato che campeggia sopra la la verga di ermete in realtà in India più che due ali troverete nella rappresentazione classica un fiore di loto ogni chakra un fiore di loto simbolicamente e quest'ultimo penultimo fiore di loto qui ha solo due petali uno a destra e uno a sinistra come due ali bianchissimo poi qui sboccia invece il loto dai mille petali sahasrara di fatti sopra lo vedete un po' rappresentato con questi cerchi concentrici e l'idea è la radianza l'espansione qui i serpenti salgono cioè l'accusa che nel simbolismo dell'antico testamento si fa al serpente è che è costretto sempre a stare a terra mentre in questo tipo di simbolismi i serpenti li vediamo arrampicarsi e salire questo mettetelo in relazione al discorso che abbiamo fatto sullo spirito come necessità come qualcosa che porta in alto come necessità di riconquista verticale dell'alto in cui abbiamo relegato il divino che ormai ci sfugge dalla natura quindi questo rapporto diretto con l'assoluto qui perché i due serpenti proprio loro sì proprio le potenze che rappresentavano quell'inconscio primordiale devono essere fatte risalire in un certo senso vengono rettificate potremmo anche dire poste sotto un percorso che anziché renderci schiavi di quelle pulsioni e forze finisce invece per asservirle alla nostra liberazione alla nostra crescita non so se mi spiego questo è molto interessante secondo il mio punto di vista perché oggi ad esempio viviamo in un'epoca in cui alcune religioni parliamo di noi nella nostra cultura sembra che la religione così come i nostri bisnonni trisnonni eccetera la vivevano abbia fatto quasi il suo tempo e il nostro rapporto con le istituzioni che si sono occupate sono sempre più blandi i nostri rapporti con tali istituzioni adesso c'è piuttosto la tendenza a un rapporto fai da te col divino ammesso che qualcuno sia interessato ad avere un rapporto con il divino qualunque cosa si intenda oggi il bello è che tu puoi parlare di Dio e ognuno avrà una sua idea su Dio che non coincide con quella delle altre difficilmente parli di Dio con qualcuno e ti spiattella il dogma di una religione quando accade diceva vabbè ma quello come dire poverino è vittima della fede cioè ha delle idee ereditate da altri o appiccicate questo è un po' il tema della distinzione a cui arriveremo alla fine trovo dicevo però interessante che per lungo tempo la natura non sia stata considerata intrisa della stessa potenza divina che aveva all'origine e oggi ci troviamo in un'epoca in cui si fa invece della spiritualità si include nella spiritualità una rivalutazione delle forze della natura una riappropriazione dei rapporti con la natura e una difesa o protezione nei confronti della natura non è affatto raro che nella neospiritualità di oggi si trovino ambientalisti animalisti salutisti tutte persone che hanno a cuore le sorti e le vicende della natura forse quel trascendente che si è distaccato e che ha penalizzato certi aspetti del nostro sviluppo interiore finisce per essere parzialmente compensato in questo modo un ritorno forte all'immanenza qui un'altra immagine un'immagine alchemica dove l'astro del sole e della luna li vedete troneggiare vicino alle teste dei serpenti nella simbologia alchemica il sole e la luna sono anche e non solo però sono anche rappresentativi della distinzione tra il maschile e il femminile ma se diamo una lettura più psicoanalitica nel sole siamo disponibili a vedere la coscienza ragionante mentre nella luna vediamo il simbolo dell'inconscio il sole che illumina il giorno cancella il cielo stellato perché non è che di giorno le stelle non siano nel cielo è che la sua luce è così forte da cancellare la presenza delle stelle la nostra possibilità di vederle in più alla luce del sole tutto è chiaro le distanze i colori le forme e così funziona la nostra razio la nostra ragione funziona per delineare contorni distinzione separazione analisi descrizione questo si può fare alla luce nelle tenebre tutto invece torna a confondersi e la luce lunare pallida ci presenta delle forme appena bozzate mentre io alla luce del sole distingo un celeste da un turchese e da un azzurro alla luce della luna mi sembrano tutti lo stesso colore dovremmo secondo me per andare in direzione non solo secondo me ovviamente però per andare in direzione di una sorta di completezza delle lacune spirituali che questo percorso che vi ho descritto in maniera molto grezza e sommaria ha generato dovremmo andare verso un nuovo sodalizio o sviluppare una nuova sorellanza o fratellanza con le potenze della notte con la luna con l'inconscio con le tenebre interiori con le forme abbozzate con ciò che si mischia che contamina ecco questo a noi spiritualmente parlando ci manca tremendamente siamo nell'era della massima distinzione siamo in un regime diurno la notte è stata cancellata dai lampioni abbiamo continuamente la necessità di spiegare di distinguere di chiarire i perché i motivi le cause le conseguenze non sappiamo più fare i conti con la bellezza dell'ignoto cioè proprio perché dico la bellezza dell'ignoto non è che dovremmo fregarcene di sapere le cose quindi dico ma me ne posso tranquillamente sbattere chi se ne frega no io parlo di una sorta di attitudine contemplativa e la contemplazione non ha bisogno di nessuna spiegazione perché mentre nella spiegazione c'è una specie di invadenza da parte mia nelle cose entro nei motivi delle cose e questa è l'attitudine della razio ben rappresentata da spade lame scettri punte cioè lo spiegare della mente è un atto di colonizzazione dei sensi e degli enti che quei sensi percepiscono entra dentro i motivi e vuole fare affette vuole aprire vuole vuole mostrare il nucleo il segreto l'essenza quando sono arrivati i filosofi come Nietzsche che riprendendo secondo me senza nemmeno saperlo il buddismo dice che non c'è nessuna essenza e che tutto è solo relazione in realtà fa un favore enorme difatti è anche lo stesso che dice che Dio è morto non a caso fa un favore enorme al lato dionisiaco della coscienza cioè alla possibilità di rapportarsi in termini contemplativi cioè in una certa misura l'attività contemplativa è passiva sebbene sia un'attività significa che anziché con la mente entrare dentro le persone o le cose io mi faccio invadere io mi faccio inondare da quello che mi circonda e di solito questo ha come unico ornamento il silenzio no? la meraviglia di cui si parlava prima anziché tirare sui muri qui li abbattiamo questo può capitare a noi anche se siamo adulti ancora può capitarci di fronte a grandi spettacoli di madre natura dove se abbiamo ancora qualche residuo di questa attitudine contemplativa riusciamo a farci penetrare e rimaniamo in silenzio dove non riesce la natura riesce l'arte è la storia dell'arte ecco l'altra grande dimensione la musica la pittura la scultura non importa le forme dell'arte sono l'altra grande dimensione in cui quello che il mistico traduce in una verticalizzazione verso Dio l'artista invece traduce in una esposizione unica del suo daimon o genius personale noi diciamo genio artistico perché ci riferiamo al termine genio ma i greci avrebbero detto il daimon come colui che ispira eh viene daimon viene da una parola greca un verbo greco che è dai o mai che significa letteralmente diffondere spargere propagare quindi il daimon anche se sembra una faccenda molto interna ha nei suoi effetti l'aprire al mondo l'offrire al mondo qualcosa di quell'interiorità quell'interiorità che la ragione nel cercare le strade della comunicazione della relazione ha silenziato ha sigillato e che spesso magari ciascuno di noi consuma in se stesso nelle fantasticherie personali nei diari scritti di notte a se stessi nelle masturbazioni mentali o fisiche che sia cioè dove mi relaziono con l'immaginazione a una parte intima di me così noi in questo modo abbiamo visto una sorta di itinerario che sfocia poi nell'alchimia qui avete un'altra immagine del serpente quella invece della tentazione qui Adamo che non sa ancora se accettare quella che solo nel medioevo è una mela palesemente cioè nell'antico testamento non c'è scritto mica che una mela chiaramente solo frutto dell'albero della conoscenza del bene del male mela forse secondo alcuni ha un'assonanza con male e quindi potrebbe essere stata scelta per questo motivo e notate il serpente guardate la testa del serpente che passa da Eva cioè passa dall'inconscio il lato femminile per poi attrarre nella fortunata trappola anche il lato maschile il lato l'Adamo come lato razionale che testa al serpente di è una testa femminile una testa di donna questo perché nella distinzione tra i generi è chiaro che la coscienza si rappresenta simbolicamente come femminile la nostra parte più vicina a la madre quell'uroboro che abbiamo visto prima al sogno alle zone d'ombra a ciò che è abbozzato perché invece il farsi fallico della coscienza che apre poi le porte al patriarcato eccetera eccetera è affine alle rigidità è affine alle spade alle lame agli scettri alla verticalità alla distinzione capite? quindi è ovvio che una rappresentazione abbastanza tardiva come questa si figuri il serpente a sua volta come un elemento femminile poi quanti danni questo possa aver generato nelle menti stolte che demonizzano il femminile come genere a causa di questo la storia purtroppo ce l'ha mostrato questo è molto interessante è un'immagine che non sapremmo identificare in maniera netta come maschio o femmina notate che è un po' ibrida come immagine se è un maschio è un po' effemminato se è una femmina è un po' mascolina non si capisce bene l'ho preso è interessante è un'immagine tra le prime che la teosofia ha sviluppato prima ancora di determinarsi a livello istituzionale come società teosofica molto prima questa è un'immagine della fine del 1600 siamo nel 1696 e qui i corpi sottili cioè i chakram sono rappresentati nella loro relazione con i pianeti la luna venere il sole marte lassù vediamo saturno questo è molto interessante i sette chakram che poi sono a volte 5 a volte 13 dipende dalle scuole si va da 5 a 13 i sette chakram sono messi in relazione ai sette pianeti e qui notate anche queste forme circolari o spiraliformi vedete ispirate al tema della sezione aurea che all'epoca era uno studio interessante sulla matrice geometrica di madre natura eccetera e qui le vedete di nuovo richiamare quell'immagine della spirale qui avete anche gli elementi in corrispondenza di alcuni organi di alcuni organi il fuoco collegato al cuore l'acqua collegata al fegato la terra ai polmoni e l'aria alla vescica qualcosa di simile molto tempo prima l'aveva sviluppato l'india e molto tempo prima la cina la cina è stata la prima con i 5 elementi a creare tutta una serie di itinerari di corrispondenze abbastanza intricate tra organi condizioni diciamo psicologiche stati da animo e elementi naturali qui vi ho messo un albero perché è un'espressione di quella verticalizzazione che però non rinuncia a essere saldamente ancorata a ciò che sta sotto la superficie l'albero diventa un'immagine del rapporto tra alto e basso equilibrata perché a differenza del campanile o la torre cioè che non ha le radici questa la vedete benissimo come immagine l'estensione delle radici supera addirittura quella delle chiome ed è così per gli alberi quindi questa l'albero è protagonista in molti miti Odino Votan con l'albero Yggdrasil per il mito Norreno Buddha mito storia non si capisce ovviamente bene sotto l'albero della Bodhi trova la sua illuminazione Gesù Cristo al posto dell'albero ha una croce che però è un simbolo affine perché contempla l'unione della verticale con l'orizzontale anche qui voi potete trovare una linea verticale nel tronco e poi le linee orizzontali nello sviluppo della ramificazione sia delle radici che delle chiome è chiaro questo simbolo è importante perché contempla l'unione di trascendente e immanente rimanere con i piedi ancorati a terra mentre la testa si innalza o con gli occhi guardo all'alto dei cieli non ho bisogno in questo caso di diventare un alienato o un disadattato se seguo la via mistica perché qual è il problema che ha portato con sé un certo tipo di spiritualità diventata compulsiva in alcuni casi che perdo assolutamente il contatto col mondo in cui mi muovo esiste solo il Dio a cui mi son votato il mio atto di devozione mi fa guardare perennemente in alto e questo non è solo un problema dei mistici pensate che era un problema persino dei filosofi o degli scienziati quando noi passiamo un po' l'idea come l'avete visto nell'immaginario cinematografico dello scienziato pazzo che è sempre un po' distratto famiglie cazzate inciampa eccetera e quello viene è proprio un altro simbolo che ha un motivo archetipale viene dalla storia di Talete che è il primo tra i filosofi annoverati nei manuali di storia della filosofia greca e Talete era un esperto astronomo è stato tra i primi a predire in occidente ovviamente un eclissi lunare insomma guardava sempre al cielo con spirito scientifico e non mistico però guardava al cielo a tal punto che un giorno cammina cammina a furia di guardare il cielo finisce in una buca e un'ancella che passava di lì lo deride e da lì la fossa di Talete diventa un po' l'immagine archetipale del distratto perché preso da cose alte che non vede nemmeno dove mette i piedi e così si può facilmente accusare ogni sorta di mistico o di persona estremamente attratta e affascinata dal mondo spirituale di rischiare un distaccamento uno scollamento dalla realtà in cui vive però non possiamo neanche pensare che l'alternativa sia un materialismo to cure di guardare solo per terra e dimenticare le stelle che sono sopra di noi l'albero quindi si pone un po' come un'immagine di mediazione tra l'alto e il basso questo è è un parellion è un fenomeno che accade ogni tanto in cui la nostra percezione vede il sole creare un arco e qui intorno anche se qui si vedono meno si vedono altri due soli quindi la triplicità del sole è un fenomeno raro però voi dovete pensare che quando accadevano queste cose nell'immaginario dell'uomo di una volta questo non era un fenomeno morto non aveva una spiegazione di ordine scientifico ma anche l'arcobaleno non è che ah guarda che belle le goccioline di H2O in sospensione che con la diffrazione della luce solare diventano lo spettro no era un miracolo e questo era un miracolo ovviamente no? si presentava sotto gli occhi con la come se fosse un miracolo allora l'uno il sole è per eccellenza l'unità vi dicevo prima cancella le stelle e quindi accentra su di sé tutto il potere sebbene emani luce e calore però è il protagonista assoluto quando noi pensiamo a l'orgoglio per esempio la vanità sono fenomeni che possiamo legare simbolicamente alla radianza cioè al mostrare la propria luce alcuni addirittura sono etimologicamente proprio connessi alla luce e quando un sole diventa tre soli forse l'uno è anche trino l'idea che l'uno e il tre siano legati non vi sto affatto dicendo che questo sia la causa dell'idea dell'unità della trinità no sto solo fornendo degli spunti simbolici in realtà già la distinzione di genere maschio-femmina o alto-basso come l'abbiamo visto prima esige una relazione tra ciò che è stato diviso io non posso seguire un percorso che mi porta dall'unità al dualismo senza poi trovarmi con in mano questi due elementi e pensare che farmene di questi due elementi devono tornare in qualche modo in una relazione così sarà per l'alto e il basso l'abbiamo visto finora ma così anche per il maschio e la femmina o la destra e la sinistra evidentemente e il problema della loro relazione è già il terzo elemento c'è colui che sacrifica c'è colui che viene sacrificato e c'è il sacrificio l'atto sacrificale che è il terzo elemento che connette c'è il soggetto conoscente c'è il soggetto conosciuto e c'è l'atto conoscitivo capite? questo è il 3 che riporta all'unità i due che da quell'unità erano scaturiti sono percorsi non logici ma poi vissuti dalla logica questa è un'immagine del globo alato chiaramente l'ho messa perché anche qui trovate i due serpenti anche in Egitto avevano nell'antico Egitto avevano l'ureus copricapo che finiva con la testa di un serpente vedete quanto è universale questo simbolo e ci siamo limitati al bacino indoeuropeo cioè da noi alla Cina perché poi se vado in Africa se vado in Sud America se vado in Nord America se vado in Oceania troverei conferme di tutto questo l'uroboro cioè quel dragone che si mangia la coda che abbiamo visto prima simbolo dell'inconscio nel grande percorso di spiritualizzazione diventa da quello che era in origine cioè la madre la grotta che protegge il grembo nel momento in cui diventa inconscio diventa l'inconscio diventa anche nemico e la luce della ragione lo vuole sgominare ecco allora aprirsi la stagione delle leggende dei miti delle storie delle favole e delle religioni in cui un personaggio che ha le caratteristiche del guerriero meglio ancora se ha le ali proprio per il motivo ascensionale che descrivevamo prima si occupa di uccidere un dragone o serpente questo è ovviamente Michael si può essere controllato anche l'uccisione in realtà l'uccisione la vedi in molte leggende per esempio in molte fiabe l'uccisione in realtà non è veramente un'uccisione perché avviene con due armi di solito e solo due ho questa che arma è questa? una lancia l'altra quale volete che sia? una spada in comune la lancia e la spada hanno ovviamente il leitmotiv simbolico del trafiggere ma trafiggere cosa vuol dire? vuol dire penetrare e questo penetrare implica quella volontà inconscia di ricongiungimento alla madre o inconscio che è chiamato complesso edipico vai una delle cose che per me è stata più più difficile da chiamare anche a livello simbolico è che mi sembra che un libro che si chiama Progetto Atman mi ricordo l'autore adesso lo chiamisce molto bene è un è un è questa non si capisce bene le volte che ci sono due quindi vuol dire un inconscio che potremmo chiamare inconscio quindi un inconscio biologico è un inconscio spirituale quindi quando si parla di per esempio di questa immagine qua a me in coriore in pulsa ogni qualvolta si vede soltanto in un livello cioè tenere a bada ma potrebbe anche essere vista in maniera non so a un livello diverso sicuro l'India ti fornirebbe immagini più chiare per questo perché noi che abbiamo immagini occidentali qui abbiamo un'immagine che sembra poi sono d'accordo con te che le letture sono stratificate e questo vale sempre nel caso dei simboli ovviamente però questa sembra un'immagine chiara sembra cioè il buono uccide il cattivo allora nella filmografia nella letteratura eccetera poi passa questo motivo e quell'archetipo continua ad essere così nei film e nei romanzi e nelle fiabe dei bambini dove i caratteri tendono a essere ben definiti nella realtà fattuale in cui viviamo noi non ci sono quelli solo buoni e non ci sono solo quelli cattivi ogni persona ha degli aspetti allora le letture si mischiano per esempio legandomi a quello che dicevi di una duplice lettura se prendi degli equivalenti di queste immagini in India scoprirai che anziché un dragone diciamo sottomesso e colpito trovi elementi bestiali tipo un equivalente del dragone nel contesto indù può essere la tigre o il leone sempre tratti aggressivi che vengono usati come destriero dalle divinità per andare a sconfiggere dei demoni che invece ammorbano il mondo quindi è un'energia liberatrice in quel caso che viene solo in un certo senso addolcita o addomesticata cioè anziché farmi divorare dal dragone ne faccio un cavallo allora in quel caso tu puoi avere una lettura alternativa a quella dello sgominare perché la cosa è associare magari per esempio in questo caso la figura di Michele a come dire come dire un'istanza pollinea che però si è riferito soltanto alla razionalità e quindi al pensiero lineare allo spazio quando invece questa istanza pollinea può essere un'istanza pollinea quindi è più alta sì ma nel mito di Apollo in uno dei miti di Apollo c'è già questa verità effettivamente io direi che le letture unidirezionali sono quelle popolari cioè sono quelle che poi sono passate nella mente noi stiamo ripercorrendo le tappe di quello che è passato nella mente comune se uno leggesse attentamente ad esempio io sono rimasto colpito dal mito di Apollo e Marsia perché lì la faccia che mostra Apollo non è affatto quella che Nice aveva identificato distinguendo per quanto io consideri Nice insomma il massimo non plus ultra però nella lettura di Apollineo Dionisiaco è un po' limitato nel mito di Apollo con Marsia Marsia è un satiro e si imbatte un giorno in uno strumento musicale che trova abbandonato per terra non sa cos'è sembra è della famiglia del loboe questo strumento e inizia a suonarlo quando lo suona scopre un suono fantastico e quindi decide di andare in giro suonando questo strumento lo strumento in questione si chiama Aulos da cui deriva il termine Aulico in italiano l'Aulos nel mondo greco era quasi proibito cioè si poteva usare solo nei ritini dionisiaci e con alcuna eccezione nei simposi dei filosofi ma lo studio dell'Aulos e la possibilità di suonarlo dentro la città era proibito mentre lo strumento per eccellenza quello di Apollo era quello che chiamiamo la lira uno strumento a corde non a fiato la differenza tra questi due strumenti è che la lira aveva l'opportunità di la musica della lira aveva l'opportunità di essere codificata cioè tradotta in spartito mentre l'Aulos è in grado come tutti gli strumenti quasi tutti gli strumenti a fiato di produrre dei suoni glissati come l'oboe o come alcuni altri dei suoni glissati che noi non possiamo rendere non possiamo codificare per esempio io posso calcolare un salto di un tono un semitono un quarto di tono un ottavo di tono il mio orecchio lo distingue ma se io penso alle sirene non le sirene marine le sirene il suono di una sirena quando sale va da una nota grave a una acuta con una continuità che non è possibile tradurre in uno schema spartitico questo faceva incavolare tremendamente i greci che consideravano tra virgolette maledetto l'Aulos di fatti nel mito si sfidano Apollo e Marsia nel suonare ciascuno il proprio strumento e lui la lira e Marsia ovviamente l'Aulos inizialmente vince Marsia perché l'Aulos piace di più proprio perché è sregolato però Apollo poi riesce un po' a ingannare la giuria mettendosi a suonare la lira al contrario la rovescia la può suonare lo stesso e dice tu sapresti fare altrettanto e ovviamente essendo uno strumento immaginate una canna tipo un flauto non può essere suonato al contrario così alla fine con questo stratagemma vince Apollo e siccome la posta in paglio era che chi vinceva decideva le sorti dell'altro Apollo qui c'è il simbolo interessante alla luce di quello del mito dice che Marsia dovrà morire per spellamento e quindi togliere la pelle che è l'organo della sensibilità ma di quale sensibilità è una sensibilità tra le meno codificabili cioè l'organo più sensibile che abbiamo ma è quello in cui persino un soffio o un passaggio della brezza risveglia attraverso la pelle il nostro senso tattile ma mentre l'udito la vista il gusto e l'olfatto sono più distinti e chiari nella dimensione tattile della pelle è tutto più incerto quella sensibilità in fondo rappresenta e anche un po' la pelle il nostro rapporto che ci separa con l'esterno quindi se tolgo la pelle che cos'ho? ho una fusione diciamo del mio essere con l'esterno e lì Apollo mostra una faccia che non è quella una feroce eccetera che non è quella che noi siamo soliti dopo Nietzsche ad attribuire ad Apollo però le complessità dei miti da immagini così non possono essere rese perché noi vediamo un'immagine come questa ma in questa immagine ci sono 10-15 livelli di lettura e il simbolo non ha mai confini netti mai e quindi abbiamo a che fare con una materia difficile da descrivere a parole io mi rendo conto che quando mi metto a parlare di simboli che sta diventando il mio lavoro ultimamente faccio una violenza al simbolo stesso lo tradisco perché il simbolo viene prima del linguaggio è difficile pensare di descrivere a parole qualcosa che abbia a che vedere con il linguaggio simbolico però magari mi ingegnerò la prossima volta porto solo immagini e facciamo solo click sulle immagini vedremo cosa fare questa vabbè questa l'ho messa perché mi piace non è un'opera d'arte però è un'immagine del ci sono diverse rappresentazioni in molte culture della esperienza extracorporea per esempio nel mondo medio orientale ci sono immagini di un uomo che dorme rannicchiato e dal suo ombelico parte immaginate un fumetto e dentro quel fumetto c'è lui che fa qualcosa e non è il sogno è lo sdoppiamento qui è reso benissimo anche molti tra noi pur senza aver fatto chissà quali percorsi hanno vissuto delle esperienze spontanee o in dormiveglia o in fase REM in cui a un certo punto ti ritrovi i casi più eclatanti sono quelli in cui ti ritrovi proprio fuori dal corpo e ti vedi o vedi la stanza intorno a te però ci sono anche delle vie di mezzo che la scienza sta cercando di indagare oggi io ho un mio amico che sta facendo studi approfonditi sul sonno e sull'origine biologica della coscienza interessantissimi a Londra molto molto interessanti dove si studia proprio la dinamica degli effetti che a livello neurologico e fisiologico hanno le fasi le varie fasi del sogno quindi le paralisi notturne piuttosto che cose di questo genere come intrinsecamente legate a dei movimenti di quella che per noi fino ad oggi è la coscienza come se la coscienza fosse distinta dal corpo invece andiamo anche qui a collegare tu hai citato un inconscio biologico prima o al meglio un lato biologico dell'incoscio ecco quella è la direzione dove si un po' brutalizzare il discorso degli studi che sta facendo questo mio caro amico a Londra non lo so io ho parlato con lui di recente ad aprile e mi ha detto che c'è ancora troppo lavoro da fare per riuscire ad avere una risposta però mi ha anche fatto intendere che sebbene sia difficile dire qual è la causa e qual è la conseguenza tra corpo e coscienza per esempio che la relazione è molto più stretta di quella che pensiamo quindi lui vabbè è molto lui è uno scienziato e quindi ragione in quei termini e mi dice che in fondo la causa è corporea no però varie immagini di questo ergersi sulla bestia sul dragone questa ve l'ho messa perché è un'immagine curiosa anche questa ha circa tre secoli è una madonna col bambino ma guardate dove si trovano innanzitutto la veste rossa è veramente un unicum in questo caso guardate dove si trovano questo è un albero questo albero ha delle lettere dorate appese sempre la stessa in realtà ed è un albero secco notate che la forma che compone la ramificazione è più o meno quella della mandorla mistica o della vescica piscis in cui nella vecchia iconografia bizantina vediamo rappresentati i santi o lo stesso Cristo eccetera quell'albero seccato ci sono diversi miti sul seccarsi dell'albero ci sono dei richiami addirittura a Gesù che maledice a un certo punto un fico un albero di fico lo maledice perché essendo secco non può dare frutti questa immagine sembra un po' trasmetterci l'idea che i lavori che si compiono attraverso il calore e la meditazione è uno di questi seccano qui seguo proprio le dottrine orientali a sufficienza al nostro corpo lo fanno seccare a tal punto da contagiare la periferia della coscienza e allora sboccia qualcosa di nuovo al nostro interno quel qualcosa di nuovo è forse psicanaliticamente il vero sé cioè la parte di noi che ci è nascosta che ci è negata e che possiamo immaginare come il bambino in via di sviluppo cioè ciò che dovrà essere una delle etimologie di Horus per esempio secondo Schelling è che Horus è bambino perché? perché etimologicamente Horus implica colui che dovrà essere cioè la sua dimensione è il futuro e nell'inconscio collettivo il nostro vero sé non è ancora è lungi dall'essere il sovrano della coscienza io penso di poter dire addirittura che le vicende che abbiamo narrato sulla percezione del divino non siano nient'altro che le vicende dello sviluppo del vero sé dell'inconscio collettivo come se Dio fosse il sé dell'inconscio collettivo è qualcosa che deve ancora maturare quando matura la coincidenza tra uomo e Dio sarà qualcosa che è ancora fuori dalla nostra possibilità di immaginazione ho messo un fiore che sboccia come immagine simbolica vicina all'albero per l'idea della crescita del rapporto col sole ma molto femminile perché il calice richiama l'idea dell'Aioni qui la madre torna ad avere un ruolo che non è più quella del dragone era sempre la madre diventata il dragone torna a diventare qualcosa di positivo a cui ricongiungersi quindi molti miti che avevano iniziato la storia con una caduta una cacciata un evento traumatico vanno poi invece a caccia di una discesa lenta dolce per sperimentare l'equivalente della caduta voluto scelto e allora abbiamo la discesa nelle grotte nel recupero delle tenebre come qualcosa di positivo pensate a Shambhala vi suona questa parola? in India il mito circolare della storia del tempo fa coincidere l'apocalisse la loro apocalisse con una nuova genesi la protagonista è Shambhala che è una città giardino mitologica anzi mitica in cui si accede passando attraverso una grotta e questa grotta ripropone il tema della nascita del venire al mondo la strettoia del venire alla luce quando esco dal corpo della madre della morte perché in realtà anche il trapasso come tunnel e poi l'accesso a qualcos'altro e soprattutto la discesa questa discesa serve a rendere più dolce attutire il simbolo della caduta che invece era il trauma dell'inizio la bocca spalancata di caos che diventa la bocca degli inferi come vi ho fatto vedere nelle prime immagini ma anche la cacciata dal paradiso terrestre o il fatto che uno dei modi di dire sogno in greco sia troma che significa letteralmente lacerazione da cui l'italiano trauma noi a trauma diamo un'accezione negativa il traumatologo si occupa di ossa rotte solitamente e in tedesco invece traum vuol dire sogno in inglese diventa dream è sempre la stessa etimologia viene da troma gli appassionati di horror sapranno che c'è una casa di produzione di horror underground che si chiama troma perché perché vuol dire ferita lacerazione letteralmente e quello è il modo con cui uno dei modi con cui i greci chiamavano il sogno noi dobbiamo cercare di suturare questa ferita e credo che buona parte di una mitologia più tarda recupera elementi negativi e li eufemizza ed eufemizzandoli li addolcisce li rende per esempio dalla bocca con i dentoni che mastica e fa pezzi si passa alla bocca che ingoia senza danneggiare tipo Giona è il mostro marino diciamo la balena sebbene non lo fosse che non lo mastica non lo distrugge lo ingoia e poi lo restituisce e allora in questi miti abbiamo un addolcimento un illanguidimento e un'eufemizzazione dei simboli negativi cosa vuol dire che li stiamo recuperando le iniziazioni occidentali per esempio in molti sistemi propongono innanzitutto una visita delle dimore inferiori Vitriol per esempio oppure il viaggio di Dante cioè si parte di nuovo dal sperimentare volontariamente consapevolmente e in sicurezza quello che mi aveva spaventato e terrorizzato all'inizio questo è un ottimo recupero secondo me queste immagini del succhiarsi il dito le ho messe perché il bambino inteso come immagine simbolica di un sé vero che sta germogliando dalle profondità per venire a galla immagine del dovrà essere dello sviluppo nel succhiarsi il dito riporta un po' all'uroboro che si mangia la coda cioè anche qui abbiamo un isomorfismo una somiglianza tra forme e quest'immagine è anche questa di tipo archetipale quando hanno rappresentato in Egitto l'horus bambino che si succhia il dito i greci l'hanno interpretato come se fosse un segno di silenzio di fatti quella forma di horus che si chiamava hor par krat che letteralmente significa horus dai piedi fragili perché è così piccolo che non può ancora camminare i greci lo grecizzano in arpocrate e lo trasformano nel dio dei giuramenti cioè quello che protegge sigilla il silenzio dei giuramenti per una sorta di scivolamento del simbolo da una interpretazione o dimensione a un'altra interpretazione o dimensione ma questo è interessantissimo perché è pieno nella storia della simbologia di questi svolazzi di questi shift da un'interpretazione ad un'altra qui ho messo anche una versione live la simbologia tende poi man mano che la razio fa il suo lavoro di ergersi anche la simbologia diventa più complessa e allora un simbolo non è più semplicemente un simbolo ma diventa un condensato di simboli come la ragione la ragione funziona scomponendo ma perché scompone perché è sufficientemente complessa per aver composto le cose prima e allora quando facciamo non so vi ricordate a scuola l'analisi logica l'analisi logica il articolo determinativo cioè bisognava scomporre e descrivere ogni singolo elemento quella era l'analisi grammaticale l'analisi logica è quella invece del periodo soggetto verbo scomposizione perché siamo nella complessità con la razio e questa complessità si riverbera nei simboli tra virgolette moderni moderni nel senso proprio in cui si intende che ne so la filosofia moderna nasce nel 1500 ecco moderni quando siamo nel pieno sviluppo della razionalità anche i simboli sono degli aggregati qui vedete la squadra e il compasso che vi ho mostrato prima sebbene con una formulazione leggermente diversa dei due serpenti in Cina in un'epoca antichissima il triangolo con l'occhio è un simbolo che rappresenta l'orizzonte divino quando l'occhio arriva a rappresentare il divino vuol dire che si è già passati dai genitali a un piano molto più alto e questo dell'occhio aperto implica che nel implica che Dio sia staccato in alto e che dall'alto osservi e giudichi e quindi l'occhio aperto come conoscenza di fatti non è che anticamente si parlava di Dio onnisciente onnipresente cioè queste sono caratteristiche del monoteismo gli dei dei politeismi hanno difetti e virtù come gli esseri umani cioè i loro caratteri rispecchiano i nostri l'onniscienza l'onnipotenza e l'onnipresenza di Dio sono invece caratteristiche del monoteismo cioè quando tutto si raccoglie in un vertice della piramide Pitagora per esempio come riferimenti la clessidra lata e l'uroboro che cinge questo simbolo vedete li abbiamo incontrati quasi tutti questi qua e adesso li vediamo assemblati in una simbologia che quando i nostri occhi la vedono satura un po' la nostra mente perché c'è tanta roba qui dentro e quindi cosa succede che obbliga a stimolare la ragione nel tentativo di scomporre e decrittare questo simbolo scindendone nelle sue componenti più semplici ed elementari per poi darne una lettura complessa quanto è diverso questo dall'immagine del caos che vi ho fatto vedere all'inizio quella faccia lì mi dice tutto senza dire niente e avrei difficoltà se dovessi descriverla vi ricordate la prima immagine avrei difficoltà se dovessi descrivere che cosa che cos'è che cosa c'è dietro c'è talmente tanta roba in realtà che basta quell'immagine qui invece potremmo forse scrivere un trattato di 350 pagine solo su questa simbologia quando la simbologia diventa articolata vuol dire secondo me che è già saldata alle vicende della ragione cioè d'altronde questi sono simboli che vengono con l'illuminismo in particolar modo e l'illuminismo non è solo quello della razionalità scientifica perché l'illuminismo fa una forte rivalutazione dell'esoterismo solo che lo interpreta in una chiave appunto più razionale il grande sogno sarà poi quello di saldare la scienza che è il nuovo baluardo dell'oggettività della verità al posto della religione con la spiritualità e nel momento in cui questo grande ideale di saldare l'elemento scientifico razionale materiale oggettivo con l'elemento invece spirituale soggettivo eccetera si realizzerà noi probabilmente ci sentiremmo un po' così cioè un po' bipolari no? Sì l'arte di fatti penso che la sopra sia non è non sta per arte però l'arte l'atto quale? l'atto creativo? no è detto la soggettività e l'aggettività ah beh l'atto di unione dei due e quindi l'arte sarà secondo me la vera eccezione alla regola cioè continuerà a esserlo per fortuna nel momento in cui si razionalizzasse l'arte è la fine anche questa è un'altra immagine alchemica e l'unione dei due opposti qui crea il famoso Revis che ha le caratteristiche dell'ermafrodito e qui si porta a compimento l'intero itinerario che abbiamo tracciato perché quell'unità che si è distinta in due ha vissuto varie vicende che io non potevo ovviamente in un paio d'ore descrivere dettagliatamente abbiamo fatto una carrellata diciamo per poi sbocciare in una consapevole e più o meno equilibrata unione tra gli opposti queste dovrebbero essere le vicende del simbolo qui vedete un'immagine tratta da un manoscritto persiano del 1600 dove i due gemelli siamesi si abbracciano uno con il copricapo blu l'altro con il copricapo rosso e questi due gemelli sebbene non siano maschio femmina sono i due siamesi rappresentano l'archetipo della coscienza gemellare la coscienza gemellare è poi protagonista di tantissimi miti qui siamo a Roma la leggenda della fondazione di Roma è proprio un esempio di coscienza gemellare sebbene sia stata ereditata dall'India e dalla storia di Krishna e Rama che anche loro dovevano essere uccisi in quanto figli di una a cui di un tipo aveva saputo che i figli di quella lì l'avrebbero ucciso quindi fa fuori i suoi primogeniti e lei quando mette al mondo due gemelli Krishna e Rama per proteggerli li nasconde in una cesta e mette la cesta nel fiume Yamuna dove la cesta si ferma a un certo punto tra le fronde di un albero che era lì in un'ansa del fiume e anziché una lupa ci sono le gopi che sono le pastorelle esperte nelle pastorelle in India esperte nelle arti sessuali ma anche nelle arti marziali giusto per sapere con chi si fa i conti queste quindi educano e tirano su Krishna e Rama e insegnano loro le arti marziali e li svezzano anche sessualmente quando sono abbastanza grandi andranno a caccia di quel tipo che faceva fuori i primogeniti della loro madre lo uccidono e fonderanno l'importantissima capitale Madura quindi questo mi tema praticamente lo vedete rispecchiato tale quale anche in India iscriviti al canale Grazie a tutti.